Ritorno a scuola, il Tardar ragione a De Luca, i giudici amministrativi hanno bocciato i ricorsi contro la riapertura graduale delle scuole dal prossimo 24 novembre. Calano i contagi, nelle ultime ore 3.334 nuovi infetti, ma De Magistris all'antimafia denuncia, a Napoli criticità su ambulanze e ossigeno, servono più soldi. Blizza Barcaturo, preso boss di Miano, Gaetano Cifrone, era sfuggito alla cattura lo scorso 20 ottobre, quando i carabinieri della compagnia Vomero avevano eseguito 24 ordinanze di custodia catelare. Lui è ritenuto il leader della cosca subentrata Elorusso. Di Lauro le mani del clan sull'affare sanificazioni. Il coronavirus è un buon affare, è una delle intercettazioni che ha incastrato il gestore di un'azienda che opera a Rimini nel settore delle sanificazioni anti-covid. L'uomo napoletano del clan di Lauro è indagato, insieme ad altre tre persone, per intestazione fittizia. Sagno, il covid non molla, 5 morti in ricoveri. È stata la giornata più nera dall'inizio della pandemia per il Beneventano. 5 vittime, oltre 130 positivi e 15 nuovi ricoveri nell'azienda ospedaliera Sampio. Intanto l'Asla assicura il tracciamento dei contatti, funziona regolarmente. Irpinia, altre vittime, allarme nel Vallo Lauro. 138 casi registrati oggi e tre decessi. Scoppia di nuovo il focolaio nel Vallo Lauro a 15-10 positivi, 9 all'Auro. Anche a Montoro non frena il contagio con 17 infetti. Intanto continua lo screening ad Avellino e provincia prima del ritorno a scuola. Covid si torna a morire nella RSA salernitana. Ancora due decessi nelle ultime ore. Non ce l'ha fatto un 83enne, ospite della casa di riposo di Buonabitacolo. Un'altra vittima a Castel San Lorenzo. Intanto a Salerno positivo una collaboratrice della parrocchia San Giuseppe. Dall'ospedale Ruggi Nuovo SOS serve personale. Erano questi i nostri titoli. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione del canale 696. La regione porta a casa un'altra vittoria al TAR. I giudici amministrativi hanno bocciato i ricorsi contro la riapertura graduale delle scuole dal prossimo 24 novembre. Notizie incoraggianti intanto sul fronte contagi. Nelle ultime ore 3.334 nuovi infetti. La percentuale tra tamponi e positivi scende al 14%. In calo anche i pazienti in terapia intensiva, posti occupati al 29% al di sotto della soglia critica fissata dal Ministero della Salute. Non solo quello sanitario. La regione deve fare i conti anche con il fronte dei ricorsi giudiziari. Ma il TAR della Campania ha segnato il round a Palazzo Santa Lucia. Con due decreti, infatti, i giudici amministrativi hanno respinto i ricorsi presentati contro l'ordinanza numero 90 con la quale si riaprono le scuole. Un percorso a tappe a partire dal 24 novembre con i bambini dell'infanzia e delle prime classi delle primarie cui seguiranno, se la situazione epidemiologica non dovesse presentare particolari criticità, le altre scuole. Il TAR ha affermato la legittimità dell'ordinanza firmata dal Presidente De Luca che tiene conto, alla luce dell'emergenza sanitaria e della zona rossa istituita dal Ministero, sia degli interessi dei genitori che degli studenti in un percorso di gradualità e prudenza così come sottolineato da Palazzo Santa Lucia. Intanto arrivano notizie confortanti sul fronte contagi. Nelle ultime ore sono 3.334 i nuovi infetti registrati. La percentuale tra tamponi effettuati e positivi scende al 14%. Bene anche le terapie intensive, con 194 posti occupati sui 656 disponibili. La Campania in questo momento è al di sotto della soglia critica del 30% fissata dal Ministero della Salute. Nel bollettino dell'unità di crisi, però, figurano altri 32 decessi. Intanto il Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, oltre a lanciare l'allarme criminalità, in audizione alla Commissione Antimafia, ha affrontato anche l'emergenza Covid in città, chiedendo più risorse al Governo. L'Asl non fa molti tamponi. La maggior parte dei tamponi fanno i privati, tra i 60 e i 100 euro. Il virus in questo momento a Napoli si diffonde soprattutto nelle fasce popolari. I tempi purtroppo di arrivo delle ambulanze sono molto molto lunghi. Si arriva per un incidente stradale anche a oltre un'ora. E cominciamo ad avere carenze significative di ossigeno. Questo è un tema di ordine e sicurezza pubblica. Era sfuggito alla cattura lo scorso 20 ottobre, quando i carabinieri della compagnia Vomero avevano eseguito 24 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti esponenti del clan, di cui è ritenuto elemento apicale. Oggi i militari l'hanno catturato a Barcaturo, in provincia di Napoli. Gaetano Cifrone, 34 anni, ricercato per associazione a delinquere di stampo camorristico, è stato bloccato dai carabinieri che lo ritengono elemento di spicco della cosca che opera in particolare nella zona di Miano a Napoli. L'operazione dei carabinieri era partita nella notte del 20 ottobre scorso. Destinatari è 23 persone, ritenute capi e gregari del nuovo gruppo criminale che gestiva essorsioni e traffico di droga. Venite in calo al mercato della pigna secca a Napoli. Molti commercianti sono rimasti aperti, ma la clientela è davvero poca. Il mercato della pigna secca nel quartiere Montesanto di Napoli resiste al lockdown, ma nonostante le restrizioni dovute al nuovo decreto, i commercianti lamentano comunque il calo di vendite e lanciano un appello al governo per avere aiuti economici, almeno per pagare i fitti dei negozi. In tanti sono rimasti aperti, ma la clientela è davvero poca e il futuro di qualcuno è davvero nero. Gli affari sono proprio zero, non stiamo proprio lavorando per niente. Secondo me l'ideale era chiuderci proprio, perché stando aperti così è inutile proprio. Andiamo avanti per campare, non si lavora più. È un momento di crisi malamento proprio. Stiamo messi male, 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 male. In pigna secca la situazione è critica, un po' anche come tutte le altre parti, diciamo, di Napoli e della Campania. Però pure noi commercianti, gli alimentaristi, stiamo facendo in modo di lavorare un po', di prendere qualcosa che ci sta. Quello che ti permette lo Stato è la legge, purtroppo. Sono leggi che vanno rispettate e le devi rispettare. La situazione è molto critica, perché commercialmente siamo molto a terra tutti quanti. Soprattutto il pomeriggio non si lavora, gente non ci sta e siamo comunque in una crisi molto, molto, si sente molto forte. Per quanto riguarda la gestione futura, speriamo che le cose comunque migliorino. Al momento siamo bloccati, cioè c'è un blocco. Non si sa come poter affrontare questa cosa. Gli affari li stanno tanti, che qua invece di metterci a lavorare e a vendere le persone, stiamo parlando con te, significa che siamo rovinati proprio. Il coronavirus è un buon affare. È una delle intercettazioni che ha incastrato il gestore di un'azienda che opera nel settore delle sanificazioni anti-Covid. Il Partito Europeo è indagato insieme ad altre tre persone per intestazione fittizia a scoprire un fiorente giro d'affari illegale e la Guardia di Finanza di Rimini. È una delle frasi intercettate dalla Guardia di Finanza di Rimini. A pronunciarla è il gestore di un'azienda che opera a Pesaro nel settore delle sanificazioni anti-Covid-19, indagato insieme ad altre tre persone per intestazione fittizia. L'operazione delle fiamme gialle di Irti Cleaning avrebbe scoperchiato un fiorente giro d'affari con la regia della Camorra che ha portato a perquisizioni nelle province di Pesaro, Rimini e Trento e al sequestro preventivo della società in questione. L'indagato, il partenopeo Salvatore Emolo, coinvolto nel 2014 nell'operazione antidroga Dragstore, è il fratello di un affiliato al clan camorristico dei Di Lauro. avrebbe rilasciato certificazioni e fatture grazie alla ditta intestata fittiziamente a terzi. Col primo lockdown la sua società era decollata così tanto nei fatturati da far scattare verifiche. La ditta di pulizie di Pesaro avrebbe avuto tra i committenti, bar, ristoranti e alberghi che dopo il lockdown, per poter riaprire, dovevano sanificare i locali. Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Rimini avrebbe scoperto come per eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali. Ad aprile, in piena emergenza Covid-19, Emolo fosse divenuto socio-occulto di una ditta individuale che opera nel settore delle sanificazioni, delle autovetture, degli esercizi commerciali e degli hotel a Rimini, a Pesaro Urbino, intascando gli utili. La giornata più nera dall'inizio della pandemia per il Sannio. Cinque vittime, oltre 130 nuovi positivi e 15 nuovi ricoveri nell'azienda ospedaliera San Pio. Intanto l'ASL assicura il tracciamento dei contatti e continua a funzionare. Vediamo il servizio. I numeri della pandemia nel Sannio ora fanno davvero paura. Cinque decessi in poche ore, decine e decine di contagi in più e 15 ricoveri in un solo giorno nei reparti Covid dell'azienda ospedaliera San Pio. A perdere la vita tre persone anziane di Benevento, l'ex parroco 87enne di Faicchio e una pensionata di Bonea. Salgono a 111 e anche questo è un dato registrato per la prima volta nel Sannio i ricoveri Covid a Rummo, dove sono stati analizzati oltre 500 tamponi che hanno restituito 128 nuovi casi di positività. Una situazione delicata contro la quale l'ASL è ormai in campo da misi. Negli ultimi giorni potenziata l'unità speciale di continuità assistenziale. Noi continuiamo un enorme lavoro sia per quanto riguarda l'assistenza domiciliare fatto con le USCA, sia per quanto riguarda il contact tracing che continua ancora nella nostra azienda. le persone vengono prese in carico, ci può essere qualche ritardo, ma riusciamo a gestirla anche con l'aiuto dei sintaci. Attenzione rivolta anche alla possibile ormai prossima apertura delle scuole. Abbiamo ampliato anche l'offerta per i tamponi. La cosa importante che stiamo facendo in questo periodo è anche per quanto riguarda la scuola, con i tamponi rapidi. Abbiamo aperto cinque punti nella provincia di Benevento proprio per assicurare una ripresa anche delle attività scolastiche quando l'ordinanza lo permetterà. Covid in Irpini a 138. I casi registrati oggi e tre decessi. Intanto continua lo screening ad Avellino e provincia prima del ritorno a scuola. Sono 138 i positivi registrati nella giornata di oggi. Tre decessi, due al Frangipane e uno all'ospedale Moscati di Avellino. A perdere la vita a causa del Covid è una 66enne di Melito Irpino ricoverato in terapia intensiva e una 84enne di Ariano Irpino ricoverata in medicina Covid. È deceduta invece al Covid Hospital dell'azienda ospedaliera Moscati di Avellino una 82enne residente ad Atripalda. La donna, positiva al nuovo coronavirus, era stata trasportata al pronto soccorso il 12 novembre ed era stata poi ricoverata in terapia subintensiva. Un triste bollettino, anche quello di oggi. Scoppia nuovamente il focolaio nel Vallo Lauro Baianese. Dieci casi accertati a 15, nove a Lauro, tre a Pago e tre a Domicella. Ma non solo. Il contagio non si ferma neppure a Montoro con 17 casi. Anche Monteforte e Mercogliano oggi si presentano rispettivamente con 4 e 8 casi. Una situazione da tenere sotto controllo. Intanto continua lo screening prima del rientro in classe al Campo Genova di Avellino, ad Ariano, Cervinara, Montella e ad Avella. Ieri, nella prima giornata, sono stati analizzati 200 tamponi, tutti negativi. Intanto le strutture ospedaliere sono sempre più in affanno. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha chiamato in causa gli albergatori per poter ospitare nelle proprie strutture i malati Covid non gravi. Appello accolto favorevolmente dagli stessi albergatori. Oggi affrontiamo la situazione attuale. È un momento, come qualcuno definisce, momento di guerra. Quindi è giusto che pure noi, se c'è la necessità, diamo il nostro contributo. L'emergenza Covid è ancora in primo piano. Ancora due decessi nelle ultime ore nel Salernitano. Non ce l'ha fatto un 83enne ospite della casa di riposo di Buonabitacolo. Lutto anche Castel San Lorenzo per la morte di una concittadina. Non si fermano i decessi per Covid-19 nella provincia di Salerno. Nelle ultime ore si è spento un altro ospite della casa di riposo di Buonabitacolo. Un 83enne, portando a 4 il numero delle vittime nella RSA, era ricoverato presso il reparto Covid dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Dolore nel Vallo di Diano, a Lutto, anche Castel San Lorenzo. Non ce l'ha fatta una donna ricoverata in ospedale dopo essere risultata positiva. Il cordoglio dell'amministrazione. Ma non si fermano neppure i contagi. Dopo il sindaco di Sassano, positivi anche tre consiglieri comunali. Mentre un nuovo caso di positività è emerso tra il personale dell'ospedale Curto di Polla, un anestesista posto in isolamento domiciliare. Allarmante anche la situazione a Salerno. Covid nella parrocchia San Giuseppe, positiva una collaboratrice della Canonica. E Caos si incorsia SOS da Ruggi. La situazione a Ruggi in questo momento è seria e anche preoccupante. Però è ancora gestibile. La cosa di cui abbiamo bisogno come il pane del capitale umano, cioè di uomini tra medici e infermieri. E non è possibile che oggi ci siano medici che lavorino 12 ore su 12 ore per permettere di avere un'assistenza minima e necessaria a questi pazienti. Intanto in queste ore il prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha fatto il punto con i vertici di polizia sui controlli sul territorio e ha sentito i rappresentanti sindacali che chiedono una scrupolosa osservanza dei protocolli sanitari sui luoghi di lavoro in vista della riapertura delle scuole, di programmare la mobilità degli studenti nel rispetto delle regole. Non è un grande sacrificio, speriamo serva. Così i cittadini di Benevento sulla nuova ordinanza anti-covid del sindaco Mastella che ha imposto il divieto di fumare nelle aree pubbliche del centro e nei pressi delle attività commerciali. Ai microfoni di 8 channel, in tanti si dicono, d'accordo sul nuovo divieto e c'è chi ribadisce l'invito a rispettare le regole. Continua a far discutere la nuova ordinanza anti-covid disposta a Benevento dal sindaco Clemente Mastella. Nel capolugosannite è scattato il divieto di fumare in strada, magari in compagnia di altre persone, abbassando così la mascherina e dunque aumentando il rischio di contagio. Di qui l'ordinanza del primo cittadino che impone il divieto nel centro storico e nelle aree limitrofe presso le fermate dei mezzi di trasporto pubblico, nelle aree sui marciapiedi in prossimità degli istituti scolastici, ma anche nelle aree pubbliche e nei pressi degli esercizi commerciali. Divieto che scatta anche nei parchi pubblici e giardini presenti sul territorio comunale. Un provvedimento che ha acceso il dibattito, ma che trova il consenso di tanti. Per me va bene, io penso che ognuno deve essere ragionevole e consapevole, insomma se il re con meno dischio all'altro. Chiaramente se passeggio insieme ad altre persone la mascherina non va tolta. Per me va benissimo questa cosa, poi all'altronde buttare le cicche per la strada è una cosa proprio che non si crede. E' giusto? Penso che sia comunque una buona cosa, al di là di tutto voglio dire. E' giusto? Purtroppo, cioè chi ha questo vizio toglie anche la mascherina. Penso forse sia giusto, non lo so, non sono un virologo. Giusto dunque, secondo i Beneventani, promuovere ogni azione è utile a limitare il contagio. C'è chi invita ad incentivare iniziative che possano promuovere una maggiore consapevolezza tra i cittadini sull'importanza di rispettare le misure anti-Covid previste in questa fase dell'emergenza. Io sono per le regole, assolutamente. E' indispensabile, anzi invito i giovani a fare altrettanto. Che cosa significa il coronavirus? Solo così noi possiamo far capire che cosa è. Va bene, speriamo che serviva qualcosa. La scorsa notte i gnoti hanno messo a segno un furto nel negozio del salumiere Coraggio della Duchessa a Napoli. Sconforto tra i titolari per un gesto che mette ancora più in crisi un'attività già approvata dalla pandemia. Furto nel locale del salumiere Coraggio Ciro Scarciello della Duchessa a Forcella a Napoli che denunciò i soprusi del clan nel quartiere. Dopo essere stato abbandonato dalla gente del rione e dalle istituzioni, arrivando a pensare di chiudere la sua attività a Scarciello e la sua salumeria, ricevettero poi la solidarietà di una parte della cittadinanza, che si era stretta intorno al piccolo negozio colpito duramente dalla pandemia. Non è che hanno preso molto questa volta, fortunatamente. Hanno preso la cassa, poi hanno preso un paio di migliaia di euro di salumi, ma non è questo il problema. Il problema è che è un continuo, è un continuo. Noi siamo alla merce di tutto, già in periodi particolari, dove noi facciamo difficoltà proprio ad andare avanti, perché non abbiamo più modo di esistere, perché con la grossa distribuzione noi non possiamo più combattere. E ci troviamo anche a fare questo. Io vorrei sapere, ma lo Stato per noi che cosa fa? Non è che ci diamo cissà che cosa, noi ci diamo di lavorare per portare avanti le nostre famiglie. Io non vedo soluzione a questa situazione. Purtroppo qua bisogna combattere sia con le persone di strada che con lo Stato. Che non ci sono controlli per altre persone. Per noi ci stanno i controlli, se non abbiamo la mascherina, se non abbiamo il termometro. Troppo funziona così. I carabinieri e forze dell'ordine hanno i loro orari. Dopo un certo orario esiste tutta un'altra vita. La tempistica potrebbe essere favorevole, visto che le restrizioni in vigore hanno inevitabilmente ridotto il traffico, ma i disagi non mancheranno. Anas ha infatti annunciato la via dei lavori sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. In programma la manutenzione per l'adeguamento e la riqualificazione delle barriere di sicurezza stradali, bordo ponte e sparti traffico, tra lo sbocco della Galleria Cologna e località Stella, nel comune di Pellezzano. Fino al 7 dicembre la società ha previsto la chiusura della carreggiata sud con istituzione del doppio senso di circolazione su quella nord. Facile prevedere che il cantiere porterà con sé non pochi disagi e problemi alla circolazione su un tratto che al di là della zona rossa fa registrare comunque intensi volumi di traffico. Prima importante operazione della finanza in Campania contro la diffusione di botti illegali. Quattro arresti nel napoletano dove è stato effettuato un maxisequestro. Anche nel Salernitano le fiamme gialle hanno sequestrato 17 chili di botti proibiti e denunciato un 57enne. 4.300 botti illegali pericolosi, del peso complessivo di oltre 260 chili, quattro arresti e due denunce. Questo il bilancio di una operazione contro i fuochi illegali portata a termine dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. In particolare i finanzieri della Compagnia di Giuliano hanno scoperto a casa al nuovo una fiorente attività di commercio di botti illegali del tipo Cobbera. Sequestrati 2.100 artifici filotecnici altamente pericolosi, del peso complessivo di 117 chili, prodotti artigianalmente e detenuti in maniera non conforme. In manette un sessantenne. In un secondo intervento le fiamme gialle, insieme ai colleghi della Compagnia di Portici, hanno sequestrato 1.044 fuochi illegali del tipo Rentini, detenuti dal titolare di una ditta individuale di Ercolano. Anche in questo caso il materiale esplosivo era detenuto illegalmente all'interno del magazzino. Denunciato un 66enne di Ercolano. Nel corso di una terza operazione, i finanzieri della Compagnia di Giuliano hanno individuato ad Ercolano, in contrada Focone, un commercio all'ingrosso di botti pirotecnici proibiti, arrestando un 66enne di Ercolano, un trentenne e un 27enne di Napoli. Altri botti illegali sequestrati in un magazzino di Arzano, denunciato un 34enne di origine cinese. Ore decisive per il futuro della maggioranza al Comune di Napoli. Fumata nera dopo l'incontro con il PD, De Magistris ora cerca sponde in Forza Italia. La decisione sarà presa direttamente da Berlusconi e Tajani, ma lo sguardo è proiettato anche alle prossime amministrative amministrative, oltre Bassolino e Maresca, spunta l'ipotesi dell'ex vice capo della Polizia Antonio De Jesu. Il futuro è ancora da scrivere, ma anche per il presente non mancano le incognite. Il Comune di Napoli è al centro di una vera e propria battaglia politica. Due le partite aperte in queste ore. Da un lato l'approvazione del bilancio per chiudere in maniera ordinata la consigliatura dei magistris, dall'altro le alleanze da definire e i candidati da individuare per il nuovo sindaco che siederà a Palazzo San Giacomo. Una delle poche certezze è la porta chiusa del PD all'ipotesi di entrare in una giunta allargata, fumata nera ieri dopo l'incontro tra i vertici del partito partenopeo e lo stesso De Magistris. Il segretario Marco Sarracino e i consiglieri DEM hanno detto no all'ipotesi di far parte dell'esecutivo. Non c'è alcuna novità politica, la posizione del PD sul bilancio non cambia, ha tagliato corto Sarracino, per il quale la condizione dell'intesa era il ritiro della candidatura di Alessandra Clemente delle prossime comunali. De Magistris allora spera di trovare sponde altrove, in particolare con l'area 5 Stelle che fa riferimento al presidente della Camera, Roberto Fico, ma soprattutto con Forza Italia. Il partito di Berlusconi potrebbe valutare l'ipotesi di una desistenza per evitare il commissariamento. Una posizione che spaccherebbe il centrodestra, visto che si allega che i fratelli d'Italia hanno detto no a qualunque ipotesi di fare da stampella al sindaco. Ma negli azzurri il ragionamento è aperto e la questione sarà portata sul tavolo nazionale. Berlusconi e Tajani si occuperanno del caso Napoli, ma anche in Forza Italia non mancano le divisioni. La discussione, manco a dirlo, incrocerebbe anche i mesi a venire con le alleanze e i nomi dei successori di De Magistris. In queste ore spunta un nuovo profilo al quale possibile il candidato sindaco e quello di Antonio De Jesu, ex vicecapo della polizia. Un profilo che potrebbe incontrare un largo consenso civico e convincere più di un partito a sostenerlo. Il centrodestra, invece, sembra orientato a puntare su Catello Maresca. Il magistrato potrebbe favorire all'allargamento della coalizione anche alle forze civiche e tentare addirittura pezzi di Dema. Nel centro-sinistra resta forte la suggestione di Antonio Bassolino, anche se il PD potrebbe puntare sul ministro degli affari europei Enzo Amendola. Qui la partita si gioca sulle ipotesi di alleanza con i 5 Stelle. A Benevento, la CGL, tante piccole e medie imprese in difficoltà, ma il segretario provinciale Luciano Valle ribadisce che bisogna sostenere anche quelle attività che pur restando aperte registrano una forte riduzione delle vendite. Tante le piccole e medie imprese in forte difficoltà che rappresentano una fascia importante del tessuto produttivo sannita, ma c'è chi rischia di non riuscire più ad aprire. A lanciare l'allarme, la CGL di Benevento che ribadisce la necessità di sostenere le tante attività che in questo periodo restano chiuse a seguito delle misure disposte in questa fase dell'emergenza Covid. Tutte queste microaziende che rappresentano una delle ossature più forti della nostra provincia, tra l'altro un'ossatura anche fragile se vogliamo da un punto di vista economico, devono essere sostenute con modalità certe e modalità estremamente rapide, perché altrimenti noi ci ritroveremo subito dopo la fine di questa pandemia che molte di queste aziende, moltissime di queste aziende non riapriranno e moltissime di queste aziende significa tante microaziende che ci hanno uno, due, tre dipendenti, quattro dipendenti. Noi avremo un ulteriore collasso da un punto di vista occupazionale ed economico. Noi già veniamo da tutto quello che c'è stato da marzo fino a maggio, ma dopo di che dobbiamo essere onesti, i consumi non sono ripartiti come si sperava. E dunque, secondo l'esponente sanita del sindacato, sarà necessario garantire un maggior supporto anche a quelle attività che pur restando aperte hanno visto calare il proprio fatturato a causa di una contrazione dei consumi. Vanno sostenute anche quelle aziende che stanno continuando ad operare, però non rientrano nei costi. Riprendono i lavori all'autostazione Irpina, domani la consegna del cantiere alla Cogepa, la ditta che aveva fatto ricorso al Tarro, uno spiraio di luce anche per il comparto trasporti. Nuovo spiraio di luce per l'autostazione Irpina, domani si procederà alla riconsegna del cantiere da parte dell'Aer alla società Cogepa per la ripresa dei lavori di completamento dell'autostazione. La decisione di Aerspa arriva dopo la comunicazione dell'azienda dell'accoglimento della domanda cautelare proposta dalla società di costruzioni Altar Campania che ha sospeso il provvedimento del prefetto di Napoli dello scorso primo ottobre con il quale era stata respinta l'istanza di rinnovo dell'iscrizione alla cosiddetta white list. La decisione ha rallegrato non solo l'Aer ma anche tutto il comparto trasporti che ora attende l'ultima azione dei lavori. Noi ci auspichiamo di una ripresa immediata dei lavori all'autostazione perché come stanno andando le cose la cosa sembra molto molto critica abbiamo molto lamentare da parte degli utenti e da parte dei lavoratori quindi una risoluzione immediata alla problematica o situazione ci permetterebbe di vivere meglio sotto il punto di vista della mobilità alla città e di fare un trasporto decente per la città di Avellino e per l'intera provincia Sicuramente noi come organizzazioni sindacali spingeremo al massimo che le cose vengano fatte nel più breve tempo possibile non possiamo permetterci dopo anni e anni di agognate attesa di allungare ancora ulteriormente i tempi quindi ci auguriamo che tutte le istituzioni prendano a cuore questa questione e termina tutto nel più breve tempo possibile Le Fonderie Pisano ribadiscono la volontà di delocalizzare lo stabilimento da fratto a Buccino il management però invita Di Luca e Bonavitacola a dare risposte concrete al piano industriale Le Fonderie Pisano tornano al centro del dibattito politico dopo la lettera firma del presidente Guido Pisano indirizzata al presidente della regione De Luca al suo vice Bonavitacola e ai sindaci di Salerno e Buccino la palla passa alle istituzioni per trovare una soluzione la proprietà dello stabilimento di fratte ha ribadito la volontà di delocalizzare nella zona industriale di Buccino nonostante le recenti sentenze giudiziarie abbiano di fatto dato il via libera al prosieguo dell'attività nel territorio di confine tra Salerno e Pellezzano ma per Guido Pisano ora la politica deve dare risposte definitive offrendo un percorso chiaro ai lavoratori e al territorio eventualità questa ribadita a chiare lettere anche dalla FIOMCGL da un lato la prima riflessione che ci viene ovviamente come parte sindacale è che l'azienda sta ribadendo un impegno che aveva preso con i lavoratori e con le organizzazioni sindacali cioè quello di dare un futuro a questo lavoro con un nuovo stabilimento industriale quindi ribadisce quell'impegno e quella volontà l'altro punto di riflessione è certamente l'appello alle restituzioni poiché noi ci troviamo comunque dinanzi a un percorso complesso il nuovo investimento richiederà dei tempi lo abbiamo detto tante volte insomma oltre i 24 mesi e comunque bisogna lavorare in sicurezza qui dove c'è l'attività in questo momento senza trascurare ci tengo perché purtroppo io penso non l'abbiamo mai fatto ma va superata anche quella odiosa prospettiva di contrapposizione salute e lavoro anche il sito attuale va seguito per la messa in sicurezza futura era questo il nostro ultimo servizio il TG News termina qui grazie per averci seguito io vi lascio alle previsioni in meteo e vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti